Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su The Division in questo nuovissimo video news in cui voglio parlarvi del secondo DLC gratuito che verrà rilasciato questo mese, che si chiama Conflict e corrisponde alla patch 1.2. Innanzitutto, finalmente abbiamo una data, 24 maggio, e oltre a mostrarci la data ci hanno anche mostrato un brevissimo trailer di circa 2 minuti, il cui link lo trovate in descrizione. Non posso mostrarvelo a schermo per problemi di copyright, quindi mi limiterò a linkarvelo. Per farvi però un breve riassunto di tutto quello che è stato mostrato, essenzialmente hanno detto che verrà introdotta una nuova incursione, i cui nemici a questo giro saranno i Rikers. Verranno introdotte nuove armi alta gamma e naturalmente dei nuovi gear sets, ben 4 per la precisione. Anche qui, nel trailer che trovate in descrizione trovate esattamente, vi mostrano esattamente i nomi di tutti e quattro i set e in cosa si specializzano. Hanno annunciato che ci saranno delle nuove taglie disponibili, quindi nuovi nemici named da poter uccidere nel PVE per poterne naturalmente riscattare una ricompensa, ed infine hanno annunciato brevemente una piccolissima modifica che verrà portata alla Dark Zone, in particolare alle estrazioni. Infatti, mentre nella versione attuale del gioco, una volta che avrete assicurato il vostro pacchetto giallo alla corda del veivolo che ve lo estrarrà, il vostro lavoro sarà terminato, a partire dalla patch 1.2, dovrete anche difenderlo fino all'ultimo minuto, perché altri giocatori potrebbero arrivare e tagliare la corda, e quindi intascarsi le vostre ricompense. Ed esattamente come detto nel trailer, dovrete difenderlo a tutti i costi. Dunque ragazzi, per quanto riguarda questo velocissimo video news inerente all'aggiornamento 1.2 che corrisponde al secondo aggiornamento gratuito, ossia Conflict e Tutto, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vi prometto una maggiore costanza con i video di The Division che ormai sono bloccati da un paio di settimane per problemi tecnici, ma che vi assicuro riprenderanno. Per il momento io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a sharemi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di The Division, e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!